Dal 15 giugno al 15 settembre 2015, come ogni anno, prende via il piano aziendale dell'ASP7 di prevenzione degli effetti nocimi del caldo estivo sulla salute. Ondate di calore, questo è il nome del piano che permette la sorveglianza e la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione. Numerosi opuscoli sono pubblicati sul portale istituzionale dell'ASP per prevenire i rischi del grande caldo e sono rivolti alla popolazione in generale e agli operatori del settore in cui sono indicate le misure e le precauzioni da adottare anche nei comportamenti quotidiani. Il piano ha lo scopo di prevenire le situazioni di disagio sanitario e o sociale causate dalle ondate di calore e di favorire il processo di presa in carico del soggetto definito fragile da parte dei componenti dei servizi di assistenza e cura. L'esposizione a temperature elevate, anche per un breve periodo di tempo, può causare problemi anche gravi alla salute delle persone. Per informazioni o iniziative di contrasto rivolgersi al numero 1500 oppure al punto di informativo aziendale dell'URP o chiamare il numero verde 829 6338.